C'è rammarico perché quando rimani in superiorità numerica e sbagli il rigore ci sta, però voglio sempre ricordare a tutti che questa è una squadra costruita da zero, molto giovane, che sta crescendo tanto. Oggi è uscito qualche limite nostro dal punto di vista gestionale, ci sta perché paradossalmente abbiamo fatto meglio in 11, perché c'è mancata l'esperienza giusta per poter fare un giropalla un po' più concreto. Però dico bravi i miei ragazzi perché stanno dando l'anima e ad oggi noi abbiamo affrontato in ordine Chiedi, che è una grandissima squadra la San Benedettese, il Notaresco che è andato a vincere oggi, sono sbagliato a Vezzano, abbiamo affrontato il Riccione domenica scorsa, per cui in tanti ci davano già spacciati. Noi con il lavoro, con l'applicazione, con la serietà stiamo cercando di muovere il quanto più possibile la classifica, per cui sono soddisfatto.